Ciao a tutti, mi chiamo Marco Luminari, sono titolare della società Commissi SRL. Volevo ringraziare Rossini TV per la collaborazione che portiamo avanti ormai da diversi anni, inizialmente con spot pubblicitari sulla nostra società e anche con la realizzazione di programmi televisivi come qua la zampa e insieme a canestro. Volevo ringraziare inoltre Rossini TV per la professionalità dimostrata e soprattutto per essere stata capace di aver valorizzato ancora di più l'immagine di Commissi. Grazie a tutti.